Allora nei prossimi video parliamo un pochettino, che non si può sempre fare soltanto lo sceme, parliamo di tutti i prodotti che non servono a un cazzo, che sono fatti di merda, che sono solamente soldi dati all'uvente se te li vai comprare, come sa dalle macchine, dalle motociclette, ovviamente diremo marca, paesi dove si producono, carte alla mano, descrizioni tecniche, ovviamente il sorteggio della macchina o della fabbrica o del negozio che le vende o del modello, insomma del nome del fabbricante, tutto a pesca, a sorte di dio, per dirti Ford, peschi esce Ford, parliamo della Ford, facciamo un'urna con tutti i nomi e vediamo che cazzo ci esce, perché la pubblicità per consigliare la roba buona la fanno tutti quanti, però nessuno ha fatto mai una pubblicità per dire qual è il prodotto più merdoso che esiste sulla faccia della terra, beh, visto che gli faccio solo schifezze, questo è un titolo mio, e tocca a me fare l'elenco delle merdate, ciao a tutti!